Ti aspettiamo a Cava dei Tirreni in via Vittorio Veneto 136 Tantissimi visitatori nel giorno di Pasquetta all'Abbazia Benedettina della Santissima Trinità di Cava dei Tirreni. Il millenario cenobio Benedettino Cavense si conferma il sito di maggior interesse della città metelliana. In tantissimi infatti, provenienti da ogni angolo della campana e non solo, ieri hanno deciso di trascorrere la giornata del lunedì dell'angelo tra natura e cultura. Quella di ieri inoltre è stata un'occasione unica anche per molti cavesi di scoprire i tanti tesori che si c'erano all'interno del monastero, un vero e proprio scrigno di arte e cultura a pochi passi da casa e che molto spesso viene ignorato. Le visite guidate, che si sono succedute sia durante la mattinata che nel pomeriggio, hanno permesso ai tantissimi visitatori di scoprire la maestosa basilica cattedrale, splendente con i suoi marmi policromi, la cappella dei Santi Padri Cavensi, la grotta di Sant'Alfero, gli altari delle antiche cappelle che risalgono all'undicesimo secolo e l'antica e la nuova sala del capitolo. I visitatori inoltre hanno potuto ammirare uno dei luoghi più suggestivi e caratteristici del monastero, ovvero il chiostro. Il percorso guidato poi è proseguito nella zona più antica dell'abbazia, la cappella di San Germano, le catacombe e il cimitero Longobardo, per concludersi nelle sale museali dove sono conservati i pregiati dipinti, manoscritti e paramenti sacri. Dopo due anni di pandemia, quest'anno Pasqua e Pasquetta hanno fatto registrare il tutto esaurito anche nelle strutture ricettive della città metelliana e della costiera amalfitana.